Nel più siano lì, non rientrenci, sono più lì, per giorni alcuni aiutori. Nel più siano lì, non rientrenci, sono più lì. Nel più siano lì, non rientrenci. On the desolate shores of the land of F, exist a great variety of living things, the most curious of which are creatures who are born without hands or feet. They are simply known as wheelers. This is a typical example of a wheeler. They are malevolent, malicious, mischievous creatures. Without decency, they are unworthy of redemption. But there was one who was different. His name was Malefet. There was never a conscience more pure, nor a heart more hollow. Though he himself was gentle to all living things, Malefet was tortured and exiled by his own kind. His body broken, his soul empty, Malefet left the only home he ever knew. He journeyed across the deadly desert and into the west of the land of Oz. The wheeler had never seen such wonders. From the peaks of the ancient mountains, to the vast plains of the west, whose rivers flowed as lifeblood eps. But however warm the sun, however sweet the air, Malefet would find no comfort, and his heart would remain wanting. A year slipped away. There was no more wondrous sight to Malefet than the emerald city of Oz. A place of learning. A place of appreciation. Who could build such splendor, and not provide the means to fill his hollow heart? Through the great gardens he wandered, wondering who would be the first to welcome him. But the reputation of the wheelers preceded him. However gentle in his approach, he was to find no welcome, only prejudice, disdain, and ill-regard. Take care! Have a great day! We curious about it. Have a great day, yes? En tweored by... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Non ciò che aveva fatto capire, o qualcosa che non aveva mai visto prima. Una sola cosa sembra illuminata da l'objeto. È scritto... ACCEPTANCE. È una polizia di evitare questo tipo di contrazione. È una polizia di l'objeto, particolare quando è promete la cosa che ha desiderato più. For po' poter sapere il malice di cui è costruito. Ma ancora più poter sapere il dolore di Malaverde. È preso il button. È preso il giro. È preso il giro. E ancora... 413 volte. Ma nel 414, Malaverde realizzato... È preso il giro. È preso il giro. È preso il giro. Malaverde realizzato. Ma nel 5DC. Ma sul una persona in ossa che sua sua soul era ancora pure e kind. La sua nome era Glinda, la Witcha del Nord. She ha detto, ho un dono per te, Maleficet, un dono di vita senza memoria, un dono di mente senza ricordare, e non ricordare, la vita che non aveva. La Witcha del Nord gave him peace che non aveva mai conosciuto, per una mente made of straw non ritiene così ricordare di dolore e sorre. The amnesiac awakened, inhaling the new world around him with the deepest sense of fascination. Maleficet the wheeler he was, the scarecrow of Oz he became, and loved he would be. The End The End The End The End Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.